Viviana Schiavi tra le eccellenze sportive cremonesi da Cava Tigozzi a ruolo di vice allenatore della Nazionale Italiana di Calcio Femminile. Come si trova in questa nuova veste? Mi trovo benissimo, in più l'esperienza diciamo che anche come risultati è partita bene, quindi c'è grandissimo entusiasmo da parte mia. È tantissimo un onore ricoprire questo ruolo, lo è stato prima da giocatrice e lo è ancora di più adesso che ho comunque la responsabilità insieme allo staff tecnico di guidare le ragazze durante queste avventure internazionali. Il talento, le qualità, la professionalità di una persona come lei hanno contribuito anche alla crescita del movimento del calcio femminile italiano. A che punto siamo? Cosa si può fare ancora? Il movimento del calcio femminile italiano in questo momento è in forte crescita sia dal punto di vista del seguito da parte del pubblico sia dal punto di vista tecnico. Negli ultimi anni c'è stata una crescita esponenziale, ogni anno si aggiunge un tassello. Sicuramente ha dato grande spinta nel 2015 quando sono entrati i club professionistici, hanno dato un'enorme spinta sia dal punto di vista organizzativo che delle strutture e degli investimenti e tutto questo si ripercuote in maniera positiva sulla crescita delle ragazze. Da Cremonese qual è la sensazione invece rispetto al movimento del calcio femminile nel nostro territorio? All'interno del nostro territorio il movimento femminile è un movimento in crescita, in espansione. Io tra virgolette nasco proprio all'interno di questo territorio, ho iniziato a giocare con i ragazzi nella Cava Sport e poi sono passata nella squadra del Maristella. C'è stato qualche anno di buio ma siamo in ripresa, la Cremonese sta facendo negli ultimi anni un ottimo lavoro sul territorio, in pochi anni è riuscita a creare l'intera filiera del settore giovanile, dalle piccole fino all'under 19 da quest'anno. Altre società come l'Esperia negli anni scorsi e anche la sport nella scorsa stagione stanno provando a investire e a creare dei progetti per convolgere sempre più bambine, quindi diciamo che è un momento assolutamente positivo. E Cremona quest'oggi è capitale del calcio femminile con la Supercoppa. Le sensazioni rispetto anche alla scelta di Cremona e poi si affrontano due tra le migliori squadre d'Italia, forse le due più importanti, un pronostico? Io sono felicissima che la mia città possa ispitare un evento di queste dimensioni, un evento di calcio femminile. Come dicevo prima, è una città di grandi tradizioni calcistiche e quindi merita anche questo palcoscenico. Oggi sarà sicuramente una partita, un bellissimo spettacolo, mi auguro. Sono due squadre con una grandissima mentalità vincente che negli ultimi anni stanno facendo benissimo, quindi sono sicura che verrà fuori una bellissima partita. Non saprei fare un pronostico perché da entrambe le parti c'è grandissima voglia di portare a casa questo trofeo. So che l'hanno preparata al meglio e quindi non vedo l'ora di andare oggi allozzini per poter assistere a questa partita.